La piattaforma di eBay è una delle piattaforme più utilizzate al mondo per poter acquistare prodotti usati e nuovi e soprattutto poter rivendere dei prodotti. Ed è proprio per questo che all'interno di questo video ho intenzione di intervistare una persona che ha avviato un vero e proprio business con eBay utilizzando il metodo del dropshipping, guadagnando dei soldi senza nessun tipo di investimento e vi posso assicurare che le cifre sono davvero molto ma molto importanti. La persona che intervisterò all'interno di questo video si chiama Leonardo Vecchio, moltissime persone lo conosceranno per il suo canale YouTube dedicato al mondo delle criptovalute, però tutti non sanno che inizialmente il suo modello di business principale era il dropshipping utilizzando la piattaforma di eBay. Quindi all'interno di questo video vedremo Leonardo come è partito completamente da zero e soprattutto quanti soldi ha guadagnato. Per questo vi invito a mettervi comodi, prendervi un bel caffè e guardare questo video fino alla fine perché vedremo tutto praticamente da zero. Come sempre per supportare tutto il mio lavoro mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vedremo alla fine. Ok Leonardo, benvenuto all'interno del canale. Chi sei e cosa fai nella vita? Allora innanzitutto Luca ti ringrazio per avermi ospitato appunto qui sul canale per fare una chiacchierata un po' diversa dal solito perché appunto ho un'esposizione sui social, soprattutto su YouTube, che però non riguarda gli argomenti che andremo a vedere oggi, bensì tutt'altro. Infatti io mi occupo, innanzitutto rispondo alla prima domanda, chi sono? Sono, ho 26 anni, quasi 27, sono nato lontano 1995 a Prato in Toscana. Sempre stato lì, famiglia normalissima, in pratica di cosa mi occupo? Fino a poco tempo fa facevo il progettista meccanico per una succursale delle ferrovie dello Stato. Adesso, in realtà non adesso, ma da un po' di anni, già da lontano 2018 che mi interfaccio con i business online. Infatti ho un'esposizione sui social per quanto riguarda le criptovalute, investimenti, infatti buona parte delle mie entrate mensili e annuali provengono proprio da quegli asset lì, da quel settore lì. Però non tutti sanno che io ho iniziato in modo completamente diverso, ho iniziato in pratica con il dropshipping, ok? In varie sfumature. E diciamo che sono stato uno dei primi, tra virgolette, in Italia, almeno a parlare, per quel che so io, poi non lo so, di eBay dropshipping. Che è una parte di dropshipping, secondo me molto interessante per chi si interfaccia in primo luogo al business online. Perché è uno dei pochi, diciamo, asset, chiamiamolo così, uno dei pochi business, più che altro, che si può intraprendere a costo zero. Esatto, esatto. Ok, adesso allora parlaci un po' di eBay, spiegaci un po' prima come funziona per quelle persone che non sanno effettivamente cosa sia eBay e poi spiegaci anche il modello di dropshipping così da far capire come poter iniziare questo modello di business. Ok, allora, eBay sostanzialmente è un marketplace a livello globale, perché infatti abbiamo varie sezioni, ebay.us, ebay.de che è la parte tedesca, ebay.co.uk che è la versione, diciamo, che si interfaccia per il Regno Unito. Io personalmente opero soprattutto nel mercato italiano, quindi ebay.it. Essendo un marketplace è un luogo dove, in pratica, un luogo d'incontro tra il venditore e il customer. Ok, la forza di ebay è che ha un algoritmo molto diverso rispetto a quello di Amazon, ok? Infatti la differenza proprio rispetto a questa tipologia di business sta che chi vende su Amazon deve avere un grosso capitale per andare a, almeno, provare a vendere, ok? Cosa che ebay non richiede. Non richiede perché lavora soprattutto dal punto di vista delle keywords, ok? Punto di vista delle keywords importantissimo, perché ci permette, anche se abbiamo uno store relativamente nuovo, di andare a, di uscire nella prima pagina nel ranking. Ciò vuol dire, per esempio, se io vendo magari questo microfono qui, se sono bravo dal punto di vista delle keywords, ho la possibilità, seppur non avendo mai fatto una vendita e lo store essendo nuovo, ho la possibilità di andare a competere con i leader di mercato del settore, ok? Quindi ci dà, appunto, questa potenzialità ebay in più rispetto agli altri business e gli altri marketplace. Una cosa interessante, come dicevo prima, è a costo zero. Perché? Perché noi, appunto, andiamo a sfruttare il traffico organico per attrarre clientela e per far atterrare, in pratica, il possibile customer sulla nostra inserzione, ok? Cosa che magari, un modello di business in dropshipping, come per esempio Shopify, il classico Shopify, dove tu crei un tuo sito, però se non mandi traffico, solitamente a pagamento, non avrai mai vendite, perché tu, è come se tu creassi il tuo store, ma è in mezzo al deserto, ok? Nessuno sa che c'è quello store lì, se tu non mandi, ovviamente, traffico a pagamento. Cosa che invece non succede proprio con ebay, perché noi andiamo, come ho detto prima, a sfruttare il traffico organico. Infatti sì, tantissime persone che si approcciano al modello del dropshipping utilizzando Shopify come piattaforma, devono spendere tanto in pubblicità, appunto, per portare traffico. Invece attraverso ebay è completamente organico, quindi noi, funge da motore di ricerca. Sì, esattamente, esattamente. Si basa proprio su quello, il business model. Io non ho mai speso un euro in advertising, ok? C'è anche delle strategie che ti permettono di andare a sfruttare, diciamo, il traffico esterno, ciò vuol dire noi paghiamo, il classico attraverso business manager, che abbiamo una campagna sui social, quali Instagram e Facebook, però è una strategia che io non consiglio, ok? Ci tengo a premettere che per adesso non sono aperti nessun corso, per adesso, ovviamente, perché è in fase di ristrutturazione e più in là vedrò di portare, di riaggiornarlo, diciamo, rimetterlo sul mercato. Quindi, diciamo che l'intento di questa, diciamo, intervista non è assolutamente vendere un corso, questo volevo farvi presente, ma dare del valore vero, ok? E questo è un po' tutto il discorso. Ok, Leonardo, ora passiamo nel pratico. Come funziona effettivamente? Come si inizia a realizzare un negozio all'interno di Bay per, appunto, guadagnare dei soldi? Ok, Luca, te lo spiego un po' in breve e un po' in modo abbastanza ampio, perché dovremmo avere un computer davanti per spiegarti il tutto. Ovviamente ci registriamo come venditore, ok? Dobbiamo andare il fulcro proprio del business a trovare il giusto, diciamo, fornitore. Il giusto fornitore che sia un buon compromesso tra spedizioni veloci e un buon gestore di resi, ok? Infatti moltissimi, e ho utilizzato anch'io per un po' di tempo, ad esempio Aliexpress, ok? Ok, ok. È un modello di business molto, molto, diciamo, limitato. Perché questo? Perché dove siamo in un mondo in cui le persone giustamente si aspettano la spedizione in 24 ore che offre, per esempio, Amazon, non possiamo andare a competere con determinati, appunto, fornitori, ok? Questo perché ci tirerebbe fuori dal mercato, a meno che non sia una categoria che noi non troviamo su Amazon, quindi una reperibilità abbastanza risicata del prodotto, allora lì possiamo provare a fare una strategia del genere. Quel che consiglio io, soprattutto all'inizio, però non andrò a specificare qui del dettaglio, perché non sarebbe consono con quelli che magari sono dentro, che sono entrati tempo fa nel videocorso, Esattamente, esattamente. E in pratica vanno a utilizzare dei fornitori B2B, dove abbiamo appunto delle aziende che gestiscono la logistica dall'A alla Z, ok? Dall'immagazzinamento dei nostri prodotti, dalla spedizione, resi, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo anche dei resi abbastanza, resi e spedizioni abbastanza veloci, ok? Quindi ci possiamo andare a competere, tra virgolette, con l'Amazon di turno. Questo è un po' tutto il discorso. Il modello di business è il dropshipping, come già sappiamo tutti, il dropshipping, ovvero che tu non devi detenere assolutamente la tua merce, ok? Anzi, io probabilmente non ho mai visto, no probabilmente, è così, non ho mai visto un prodotto, un singolo prodotto che ho venduto su eBay, ok? Perché appunto il mio fornitore provvedeva sia all'immagazzinamento, alla spedizione, al momento dell'acquisto su eBay e all'eventuale reso, ok? Una categoria, un piccolo, un piccolo tips che volevo dare in questo video è non andare assolutamente a vendere roba che ha taglie. Ciò vuol dire il vestiario, io ho una cosa che non consiglio assolutamente, perché per esperienza il vestiario, magari, non lo so, un fornitore vende questa maglia, che è M, una persona acquista che solitamente ha la M, ma non tutti i fornitori hanno le stesse, diciamo, linee guida per costruire le determinate taglie. E di conseguenza è capace che, invece che la M, ha bisogno della L, e per noi possiamo capire che un reso è... Una perdita, una potetica perdita. Esattamente, sì, sì. In realtà non tanto a livello di soldi, quanto di tempo che noi dobbiamo andare a contattare il nostro fornitore, richiedere il reso, eccetera, eccetera. È più una perdita a livello temporale, ok? Ok. E di stress soprattutto. E ciò che consiglio io sempre alle persone è di ottimizzare il più possibile questo business qui, per renderlo il più passivo possibile. Ovviamente l'intervento umano c'è sempre, ci deve sempre essere, però consiglio di limitarlo al minimo, insomma. Allora, quindi nel momento in cui trovi un fornitore che ti mette a disposizione un prodotto, tocca pubblicarlo all'interno di eBay. eBay, sì. Ok. E quanto effettivamente non bisogna investire niente? È fatto tutto? Assolutamente no, esatto. È stato uno dei miei primi business che attualmente è ancora attivo, ma ho completamente delegato a un mio collaboratore, in realtà collaboratrice. E io per avviare due store che sono attualmente attivi, in realtà uno è quello che performa di più, l'altro è quello diciamo di backup, chiamiamolo così, fa delle vendite un po' sporadiche, però insomma c'è ancora, è esistente ancora. E non ho mai investito niente, perché effettivamente noi non dobbiamo comprare prima la merce, non dobbiamo andare a pagare advertising per attrarre clientela sulla nostra inserzione, ma con determinate tecniche, con determinate strategie, con determinate puntualizzazioni o comunque sia ottimizzazioni all'interno dell'inserzione noi possiamo andare veramente a vendere senza investire neanche un euro, ok? Ovviamente vi avverto subito che non è un modello di business in cui, almeno fatto a livello tra virgolette amatoriale, ok? Se magari avete in mente di creare voi un business di ebay dropshipping, non è un modello di business che, come parlano tantissimi fuffaguru, che dicono si può fare miliardi o milioni in un anno o in giorni, non è assolutamente quello, perché per fare determinati numeri c'è bisogno di un'infrastruttura veramente enorme, perché sappiamo benissimo che per arrivare a certi numeri, innanzitutto bisogna abbassare il margine, ok? E dopo infatti andremo a contestualizzare anche questo punto di vista. Abbassare il margine perché abbiamo bisogno di aumentare i volumi, ok? Perché sappiamo benissimo che divido in due categorie i prodotti, i prodotti quelli lì con alto margine e alti comunque sia vendite e quelle giustamente che dobbiamo adeguarci al mercato, ok? Possiamo capire che nella prima categoria ce ne sono molti meno e sono abbastanza limitati, quindi di conseguenza non possiamo pretendere che per tutti i prodotti abbiamo, che ne so, un 40% di margine, che è un'ottima cosa, ok? E di conseguenza per aumentare i volumi dobbiamo, tra virgolette, abbassare la qualità dell'inserzione. La qualità, ti dico, a livello di margine, non a livello di presentazione, di attrazione cliente, capito? Ok. E Leonardo, nel momento in cui pubblichi un annuncio all'interno di eBay, no? Quali sono le cose più importanti da prendere in considerazione, oltre ovviamente al titolo, all'immagine in sé? Allora, oltre ad inserire, dal mio punto di vista, delle call to action all'interno dell'immagine, ok? Dobbiamo stare moltissimo attenti alle keywords, ok? Sia da inserire nel titolo, sia nella descrizione. Perché, logicamente, essendo un motore di ricerca, se noi vogliamo uscire tra i primi prodotti, per esempio, come dicevo prima, io vendo, non lo so, l'orologio, ok? Ho bisogno di vendere un orologio? Devo dare più informazioni specifiche a chi cerca quel determinato orologio. Mettiamo che noi vendiamo, non lo so, un Rolex, cosa impossibile, non da vendere, ma è soltanto per fare un esempio. Noi andiamo a vendere un Rolex, noi dobbiamo andare a mettere più keywords possibili e dobbiamo immedesimarci proprio nel cliente finale che vuole andare a cercare quel determinato Rolex lì e dare più informazioni relative al prodotto stesso. Perché? Perché in questo modo abbiamo la possibilità e abbiamo maggiore possibilità, soprattutto rispetto ai competitor, di riuscire tra le prime inserzioni. Una volta che riusciamo tra le prime inserzioni, quindi abbiamo lavorato molto bene dal punto di vista delle keyword, dobbiamo, come dicevo prima, cercare di attrarre l'attenzione proprio sulla tua inserzione rispetto a quella dei tuoi competitor, ok? e queste ci sono diverse strategie per call to action, insomma, all'interno da attuare, diciamo. Ok, quindi alla fine funziona attraverso delle keywords che ci permettono di apparire in prima pagina, un po' come funziona anche la piattaforma di YouTube per essere visti, ok? Esattamente, sì, sì, sì. E nel momento in cui tu vai a pubblicare un prodotto, per caso fai una ricerca delle parole importanti, delle parole più ricercate? Sì, sì, sì. Ci sono delle ricerche da fare, innanzitutto per vedere un attimino quanto è la richiesta sul mercato di quel determinato prodotto, perché noi non dobbiamo affidarci al nostro istinto. Esattamente, perché molte delle volte il nostro istinto è sbagliato, o meglio, ciò che desideriamo noi molte delle volte non è richiesto dal mercato, ok? Quindi è inutile magari perdere tempo a cercare e concentrarsi su una determinata nicchia quando poi in realtà non è richiesta dal mercato, ok? Quindi sì, dal punto di vista di ricerca prodotto c'è anche una metodologia che consiglio anche all'interno del corso che, ripeto, attualmente è chiuso, quindi non vi preoccupate. Il discorso è che dobbiamo andare a ricercare e spiare, tra virgolette, i competitor, ok? In base alle metriche che ci danno i nostri competitor noi vediamo quante vendite fanno. Rispetto alle vendite che fanno, logicamente possiamo capire l'interesse sul mercato di quel determinato prodotto, di quella determinata categoria di prodotti, ok? E questa è un po' tutta la strategia madre, ok? Poi ci sono altre strategie, ma la più importante o tra le più importanti credo appunto sia questa, ovvero di andare a vedere cosa fanno i tuoi competitor, ma andare anche a vedere su altre piattaforme, fuori da eBay, ok? Sempre ovviamente stando sul mercato italiano o il mercato di riferimento in cui stiamo andando a vendere, perché magari non è detto che se una cosa in Germania vada bene per il mercato, vada bene anche per l'Italia, ok? Molte delle volte sì, abbiamo delle somiglianze sui due mercati, però non sempre così, ok? Perché ovviamente dobbiamo immedesimarci sempre nell'utente finale, ok? Dove hanno delle abitudini gli utenti, cioè sono esseri umani, alla fine quelli che acquistano dal nostro store, ok? E di conseguenza dobbiamo cercare di mesi di marci in questi ultimi, ok? E cercare appunto di capire i loro bisogni. Ok, ma sicuramente moltissimi si staranno chiedendo, ma effettivamente è legale poter fare dropshipping all'interno della piattaforma di eBay? Allora, di se per sé, partiamo dal presupposto che dropshipping è soltanto un modello di business, ok? In realtà vi ammetto che, io inizialmente non lo sapevo questa cosa, che non è che è illegale, ok? Perché non è che è legale e nessuno ti fa niente, nessuno ti viene a arrestare se fai una cosa del genere. Solo che se andiamo a utilizzare, diciamo, dei fornitori che magari non sono contemplati o comunque se non andiamo a dichiarare noi all'interno della descrizione che noi stiamo utilizzando il modello di business, il modello di spedizione del dropshipping, possiamo incappare in dei problemi, proprio con eBay, ok? Ma problemi di natura che magari ci limitano l'account, viene flaggato, viene bannato, ci levano, diciamo, la visibilità, da un punto di vista così. Io per esperienza ti dico che se noi offriamo un buon servizio al cliente finale, ok? eBay non ci limiterà mai. Perché? Perché noi stiamo comunque portando del valore sulla piattaforma, gli stiamo facendo guadagnare dei soldi e non li stiamo portando via clienti perché gli stiamo dando un brutto servizio. Quindi, per esperienza, in questi ultimi 3-4 anni che appunto sono su questa piattaforma qui, fin quando hai un alto feedback, ciò vuol dire dei feedback molto alti e pochissime, quasi allo zero, i feedback negativi, eBay chiude, tra virgolette, un occhio, ok? Comunque, ragazzi, riassumendo, non è illegale, ma viola, tra virgolette, le policy di eBay, ok? Però sappiamo tutti che se fatto in un certo modo non ci dà alcun problema, insomma. Ok, ok. Se puoi mostrarci anche qualche risultato, puoi parlarci anche dei tuoi primi risultati, soprattutto quando hai intrapreso questo percorso. Allora, il mio primo store l'ho aperto fine 2017. Mi ricorderò sempre che il primo mese, forse magari ho avuto un po' di culo, perché ero alle prime armi, purtroppo informazioni in Italia non se ne trovano informazioni del genere. Io ho dovuto studiare, insomma, oltreoceano, testare, perché non sempre quello che viene spiegato anche nei corsi oltreoceano viene, è adattabile, diciamo, al nostro mercato italiano, perché magari loro hanno, l'algoritmo funziona in un modo un pochino diverso, o comunque, diciamo, che, come dire, anche gli interessi, come dicevo prima, sono completamente diversi. e il primo mese ho fatturato, non aspettatevi una cifra enorme, però, essendo un business partito da zero, primo mese, non avendo investito zero, 1480 circa euro, con un 33% di netto, cioè, vuol dire, sono all'incirca sui 400 e qualcosa, una roba del genere, ok? Con un singolo prodotto? Con un singolo store, più prodotti, perché qui, allora, c'è da fare una buona distinzione rispetto al dropshipping normale, dropshipping normale, molte delle volte, si basa su un singolo prodotto, o massimo due. Qui è diverso, qui dobbiamo andare sulla diversificazione, ok? Magari noi scegliamo un paniere di prodotti, dove andiamo a metterli su eBay, ok? E andiamo a testare. Man mano andiamo, magari, tra virgolette, a scartare quelli che non sono richiesti dal mercato, cercando di spingere, invece, quelli che vediamo un buon riscontro, ok? In base alle views, in base alle vendite, in base a certi parametri che dobbiamo andare ad osservare, ok? E questo è stato il mio primo mese, insomma. Ok, e poi, diciamo, l'incasso più alto che sei riuscito a fare, se puoi dirlo, ovviamente. Sì, sì, senza problemi, senza problemi. Allora, l'incasso più alto, durante il Covid, aprile 2020, sì, aprile 2020, in pratica, come fatturato con un singolo store, quello store ci aveva all'incirca 100 prodotti, ok? Poi, essendo con fiscalità in Italia, ho attuato delle strategie che mi permettevano sotto di stare ai 65 mila dollari di fatturato, euro, scusate, perché siamo in Italia, e con 10-12 mila, ora non ricordo molto bene, di fatturato, avevo un 43% di netto, forse qualcosa di più, quindi all'incirca 4 mila, poco più, 4-5 mila euro. In un solo mese? In un solo mese, assolutamente. Vabbè, quindi significa che comunque, mettendoci impegno, portando sempre più prodotti all'interno di eBay, si possono fare anche cifre, effettivamente, in oro. Si può anche scalare questo business, magari assumendo anche del personale. Esattamente. Ci sono anche dei botti, in realtà, che ti permettono di scalare questa, o delle intelligenze artificiali, che ti fanno l'autolisting di certi prodotti, all'interno proprio di eBay. Però è una cosa che io non consiglio molto, perché innanzitutto ti abbassa il margine, perché non vai a aumentare la qualità, ma la qualità rimane bassa dell'inserzione, ok? Quindi una persona è meno incentivata a comprare in un'inserzione fatta male, ok? proprio perché è fatta male, si vede che è copiata da un'altra parte, e soprattutto non ha una buona resa a livello di keywords, piuttosto che una, invece, un'inserzione fatta con ricerca meticolosa e con sviluppo meticoloso. Quel che consiglio io è, sì andare sulla quantità, ma senza far, senza tralasciare, diciamo, la qualità dell'inserzione, perché alla fine ciò che dobbiamo fare noi è differenziarci dagli altri competitor. Parlami pure anche di qualche risultato dei tuoi studenti, quando il videocorso era... Allora, sì, il videocorso in pratica è andato online nel 2000, dopo la pandemia, in realtà gennaio 2021, credo, quindi già quasi due anni fa. I miei studenti, allora vi dico, non ho avuto tantissimi studenti, ho avuto alla fine, in un anno e mezzo, ma non l'ho mai pubblicizzato appunto a pagamento, non ho mai fatto campagne di advertising per far rimettere la gente così a caso, ok? Ho sempre sponsorizzato con i miei follower su Instagram, neanche su YouTube, forse ho fatto un paio di video all'inizio del canale dove appunto parlavo di questo business model, ok? E in questi 50 studenti ce ne sono stati una decina veramente, veramente forti, che già in un mese addirittura uno ha superato il mio primo mese. Sì, perché effettivamente poi nel corso del tempo anche io stesso facendo e praticando le certe cose ho inserito all'interno del corso varie strategie che per me sono, ci sono volute tante ore davanti al PC, tanti test e quindi hanno portato a risultati maggiori. Cioè per esempio stiamo parlando di una persona che sempre durante periodo di pandemia, non prima ondata, seconda ondata, in pratica ha fatto nel primo mese 2005 o 3.000 dollari di fatturato con un buon margine, si parla del 38% di margine all'incirca, partendo ovviamente da zero, non spendendo niente a livello di advertising, niente in questo business insomma. e la cosa particolare è con una singola nicchia di prodotti, ok? In pratica con 4-5 prodotti e 30 inserzioni, forse anche un pochino meno, 25 inserzioni è riuscito a fare in un singolo mese che poi lungo andare ha scalato questa il suo store, insomma. E Leonardo, per quanto riguarda anche il prodotto nel momento in cui viene acquistato, sappiamo che per quanto riguarda Shopify ci sono proprio dei tool che si vanno ad utilizzare per poter automatizzare l'acquisto e la spedizione. Come funziona con eBay? Allora, ci sono due metodi, ok? Ci sono delle, in pratica, dei bot, delle intelligenze artificiali, chiamiamole così, che ti permettono di agevolare il processo di spedizione. Puoi addirittura anche automatizzarlo al 100%. Il problema è che diciamo che molte delle volte i campi in cui va a inserire all'interno del, perché si deve interfacciare praticamente sono come due sempre interfacciandomi al settore cripto, due oracoli che, o meglio, un oracolo che unisce due piattaforme, ok? La piattaforma eBay dove va a estrapolare i dati dell'indirizzo di spedizione e quello del nostro, e va a inserirlo nel campo di spedizione e effettuare il pagamento attraverso una carta che noi abbiamo inserito, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi c'è tutto un sistema automatizzato. C'è un sistema automatizzato, ma io sotto i 100 prodotti consiglio sempre di andare a farlo a mano, ok? Magari sempre utilizzando dei tool che ci permettono di fare tutto sempre in modo manuale ma più veloce, ma proprio perché molte delle volte devo ammettere che certe intelligenze artificiali non combasciano bene, cioè nel senso non è estrapolo bene nei dati e non li vanno a inserire molto bene e lì creerebbe un problema perché logicamente se magari lui ci ha inserito una nota sotto, per esempio non suonare al campanello perché non funziona, chiama questo, logicamente l'intelligenza artificiale non lo va a captare, non lo va magari a inserire e questo creerà un problema proprio alla spedizione che ci creerà problemi in background, magari risparmiamo un pochino di tempo prima per poi perdercene cinque volte tanto dopo, capito? Quindi fin quando abbiamo un volume di vendite abbastanza contenuto tipo 10, 15, 20 al giorno vendite alla fine ci vuole una volta presa la mano due minuti a vendita a prendere e spedire forse anche meno e un'altra cosa importante sappiamo che ebay comunque è una delle piattaforme più utilizzate al mondo e ci sono migliaia di venditori quindi diciamo attraverso la vendita di prodotti si può tranquillamente apparire in prima pagina anche se c'è appunto tanta concorrenza all'interno di ebay sì ci sono appunto come dicevo prima delle strategie tra l'altro c'è una strategia che qui ve la spoiler che è molto interessante che è quella della sponsorizzata ma non stiamo parlando di una sponsorizzata che tu paghi prima stiamo parlando di un flag da mettere proprio all'interno proprio una volta che costruiamo l'inserzione un flag che ci permette in base a dei parametri di uscire come sponsorizzata ok in prima pagina però come dicevo prima ci prenderà una commissione ulteriore al momento della vendita ok lì bisogna fare un investimento però no no in realtà l'investimento è dopo la vendita cioè nel senso ci viene scalata più fee perché giustamente noi per vendere sulla piattaforma di ebay come anche amazon amazon come ebay appunto si trattengono le fee ok che è il loro tra virgolette lavoro che corrispondono al 12% se non sbaglio poi ovviamente dipende in base alla categoria di prodotto in base a diversi parametri ok e invece che il 12% metti caso ci prende un 3% in più un 2% in più ok e in questo infatti spiego all'interno del videocorso come sfruttare questa strategia per il lungo termine ok che non è sempre necessaria comunque è molto interessante andare a sfruttare la stessa punta come sfruttare ok e leo ti ringrazio per questa intervista ciao ciao ragazzi detto questo signori se questo video è stato di vostro gradimento mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati in descrizione vi lascio anche il link del canale youtube di Leonardo Vecchio e soprattutto fammi sapere tu cosa ne pensi nei commenti io vi saluto e noi ci vedremo nel prossimo video ciao